Buonasera, ben ritrovati, con un saluto appuntamento con la voce dell'istituzione, ho il piacere di ospitare la rieletta sindaca del Comune di Valle di Cadore, Mariana Offer, che saluto e che ringrazio. Partiamo proprio da questo, che è naturalmente un momento molto importante, solitamente si dice quando sta per finire il mandato non lo faccio più, poi uno ha questa voglia, questa foga di finire i lavori che ha fatto e si ripresenta e così è accaduto anche per lei. L'elezione nel Comune di Valle era guardata con molta attenzione perché eravate due persone molto forti, importanti, conosciute in Cadore e ha vinto lei con un margine anche abbastanza netto. Sì, è stata una bella soddisfazione, devo ammetterlo, e non ce l'aspettavamo. L'ultima settimana avevamo qualche sensazione positiva, ma il rischio di perdere credo ci sia sempre ed eventualmente bisogna accettarlo. L'altro candidato, Matteo Toscani, era sicuramente una persona di rilievo, segno che la gente di Valle ci ha dato e mi ha dato fiducia e questo ci responsabilizza ancora di più. è soprattutto da notare che c'è grande partecipazione in Paese e questo nemmeno è scontato. No, bisogna riconoscere che sia io che Matteo, abbiamo risvegliato un po' quello che è il senso civico. Alle volte quando la sfida è importante la gente si appassiona. L'importante è però, dal mio punto di vista, che il Paese non si divida con chi è contro di me. Io rappresento tutti, lui farà la sua parte come minoranza, ma il Paese è unico e gli obiettivi da perseguire sono gli stessi. Un Paese che è diviso in varie frazioni e lei aveva promesso ancora prima delle elezioni che avrebbe dato rappresentanza al borgo piuttosto popoloso di Venas. Così è stato? Sì, assolutamente sì, perché le parole non debbono rimanere così nell'area delle promesse. Il Vice Sindaco è di Venas ed è Stefano Sacchetta. Gli auguro un buon lavoro, credo che sarà faticoso, ma credo che potremo toglierci anche delle belle soddisfazioni. E l'altro assessore? È il signor Gianfranco Marangon, l'architetto, ha lavorato tanti anni a Cortina d'Ampezzo, quindi persona stimata e conosciuta, ma soprattutto con i piedi proprio dentro la materia, quindi credo ci darà una buona mano e un grande aiuto in questi cinque anni che si presentano come molto impegnativi. Senza trascurare l'importanza degli altri, ma c'era un nome che risaltava, che è quello di Angelo Lino del Favero, che è stato a suo tempo direttore generale e poi ha ricoperto altri incarichi anche a livello nazionale. Che ruolo? Ma lui fa il consigliere, tra virgolette, lui gli piace definirsi soldato semplice, fa il consigliere semplice, certo è che il suo peso all'interno del nostro gruppo si sente e si sentirà, ma non solo a livello di Valle di Cadore, credo anche a livello di Cadore e se non magari anche di provincia per quello che riguarda la sanità e rappresenterà il comune di Valle a livello della magnifica comunità di Cadore. Il tema della sanità non è un tema da poco in Cadore, è ancora tutto da sviluppare con tutte le polemiche che sono in corso, quindi un occhio d'attenzione maggiore è molto competente. Beh, insomma la sua esperienza credo peserà poter portare una voce così autorevole sui tavoli che contano, credo sarà assolutamente rilevante per i cadorini ma per i bellunesi anche. Si dice sempre, beh devo ripresentarmi perché devo finire le cose, perché forse non lo sanno in molti, ma è molto complicata l'attività di sindaco perché ci vogliono 2-3 anni prima di capire la macchina, poi si fanno partire i progetti, vista la burocrazia nel momento in cui stanno per partire finisce il mandato, quindi gioco forza, bisogna proseguire. Tra le varie cose che le piacerebbe portare a termine? Beh, assolutamente il riefficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, è un progetto ambizioso per un totale di 561 mila euro che forse anche grazie al Covid è proprio iniziato con questa amministrazione perché ahimè con lo stop del Covid si erano bloccati un po' tutti i progetti, quindi noi avevamo firmato il contratto ma i lavori concretamente non erano iniziati e inizieranno proprio in questi giorni. Assolutamente quello e poi tutto quello che riguarda la manutenzione degli immobili che è iniziata due anni fa con uno stabile dove c'è anche la polizia stradale, è terminata l'anno scorso con la ristrutturazione del paveon che è ritornata ad essere seggio elettorale ma ci sono tutti gli immobili da ristrutturare. Gioco forza poi è quello che riguarderà la viabilità e su quello il Comune dovrà darsi da fare. È ancora lunga la strada per poter dire di aver dimenticato, ammesso che si possa, il Vaia? No, Vaia non ce lo siamo dimenticati. Sabato scorso purtroppo con una piccola tromba d'aria di 10 minuti abbiamo avuto 6 piante che sono cadute sulla statale d'Alemagna e altre nei sentieri sottostanti la strada, quindi no, purtroppo il territorio necessita ancora dei lavori del Vaia ma secondo me necessita di alcuni interventi per evitare che poi succedano queste cose tipo il taglio delle piante ad una fascia di rispetto dalla strada statale. Anche perché poi sopra Venassa c'era una situazione particolarmente complicata, su Piane, è su Piane? Sì, è su Piane la Borgata Giao dove stiamo intervenendo relativamente alla problematica dei siti valanghivi, ma devo dire che su quello sia l'apporto di Veneto Strade in qualità di soggetto attuatore della regione e dell'assessore, spero riconfermato, Bottacin mi dà più sicurezza nel senso che non lavora solo il Comune ma lavorano anche altri enti con determinate risorse e determinate esperienze. Senta, mi permetta da fuori e quindi con tutti i limiti che può avere questo suggerimento, visto che ha un architetto, io spesso ho sentito delle persone che si notano come i nostri paesi di montagna in calore, soprattutto il collegamento da Tai a Cortina, ci sia bisogno di un po' di restyling, di un piano colore per questi paesi, ci avete mai pensato? Sì, noi stiamo pensando non forse ad un piano colore, ma siccome dovremmo andare a manutentare tutti quelli che sono i marciapiedi, che ormai sono vetusti e necessitano di una manutenzione, di caratterizzarli. Ci piacerebbe che le persone che attraversano valle si rendessero subito conto che sono a valle magari dai marciapiedi. Stiamo parlando con alcune ditte relativamente magari a materiali e colori, anche perché noi abbiamo il sale che va sui marciapiedi e questo fa sì che alle volte l'asfalto non duri per tantissimi anni. Quindi ci stiamo ragionando, cioè ci piacerebbe anche in vista degli eventi sportivi che porteranno molta gente, che la gente si ricordi che quello è valle di Cadore. Allora, vediamo quest'altro argomento, visto che ha parlato di mobilità e di strade, qualche informazione nuova riguardo alla galleria che dovrebbe permettere di non passare più per Curva Costantini che è stata nota dolente in questa estate. Sì, allora sono arrivati i decreti di approvazione dell'impatto di valutazione ambientale da parte del Ministero. Quindi a breve dovrebbero essere convocate tecnicamente le conferenze di servizio dove ci si ritrova tutti e ognuno porta le sue istanze per poi proseguire con il progetto esecutivo. Quindi io conto che per la fine della primavera, inizio dell'estate prossimo si possa pensare a almeno un affidamento della gara e dentro l'anno l'inizio dei lavori. Ci tengo però a dire una cosa sulle varianti che vengono fatte in Cadore in virtù degli eventi sportivi. Non miglioreranno la viabilità, ma renderanno possibile la vivibilità di alcune borgate dei paesi che erano invivibili. Io penso a Valle e alla borgata di Costa, ma penso anche a Taia e quant'altro. Quando c'è il traffico in quei posti tu sei agli arresti domiciliari a casa. Pensare di andare a bere il caffè a un chilometro è impensabile perché se no rimani in coda un'ora. Quindi non è una soluzione definitiva sulla viabilità e noi sindaci dovremmo essere bravi a continuare a portare avanti le nostre istanze per quello che riguarda le Olimpiadi di Cortina 2026. Quindi probabilmente ci avrebbe una lunghissima galleria che da Taia dreni tutto il traffico. Ma non credo che la galleria sia fattibile perché ormai i posti dove era pensata la galleria si sono urbanizzati e quindi ci sono servizi e sottoservizi. Credo però che la Macchietto Venas sia un tema quanto mai attuale. Volevo arrivare proprio a questo perché si è riacceso il dibattito. È un'opera molto costosa, risolverebbe però molte problematiche. Lei appoggia soprattutto gli intenti del suo collega di Cibiana, Gosetti. Sì, devo dire che noi cinque anni fa siamo stati i primi in provincia a portare il progetto della Macchietto Venas che poi è stato scartato per le ragioni che hanno ritenuto opportune. Però è l'unico modo per portare il traffico fuori dai nostri paesi. Non c'è alternativa. Noi non siamo come la pusteria, una valle aperta che dove decidi di tracciare una strada bene o male riesci a farlo. A noi a Monte abbiamo le montagne e a valle abbiamo il Boite. Quindi non è proprio così facile anche da un punto di vista strutturale e infrastrutturale. Credo che la Macchietto Venas sia l'unica reale soluzione. E a proposito, visto che riguarda anche voi, si era parlato qualche tempo fa, veniva data per certa, la realizzazione di un progetto del famoso ponte Cibiana-Venas. Se ne sa qualcosa? Anche quello è di competenza della mia amministrazione, Mattia Gosetti lo sa, ma abbiamo sempre lavorato in sinergia, come è giusto che sia, perché credo che noi amministratori abbiamo l'obbligo di guardare un po' oltre e non solo nel nostro giardino. Nel mio mandato c'è anche quello di aiutare eventualmente le persone dell'abitato di Cibiana. Ad oggi si parla di un miglioramento dello svincolo, dovrebbero partire a breve i lavori. Per quello che riguarda il ponte è una delle possibilità che ci verranno prospettate col piano olimpico delle infrastrutture. Andando avanti, restiamo un po' sul tema, perché avevo parlato di Curva Costantini. Quest'anno è stato più problematico di tutti gli altri anni, con addirittura incastri tra camion e automobili. Non si riesce a capire come, perché se c'è un semaforo quello è. Ma anche di un semaforo, che diciamo era un po' distratto, se non stupido. Dovrebbe essere intelligente, però oggettivamente alle volte con il posizionamento delle telecamere che devono rilevare i camion ha qualche difficoltà. Credo che il problema quest'estate sia stato principalmente sul fatto che non è stata riproposta da ANAS l'ordinanza che vietava il transito dei camion, che non avevano destinazione la provincia di Belluno o le province limitrofe. Per quanto poco, quei camion hanno continuato a transitare nei nostri paesi e hanno creato qualche problema. Oltre al turismo, perché abbiamo avuto molti più camper e lì oggettivamente bastano due camper per incastrarsi. Poi sui giornali sono finiti i camion e i tir, ma anche solo con un autobus della Dolomiti Bus e un camper noi lì avevamo delle problematiche. Verrà risolta con la galleria. Parliamo adesso di una struttura importante, visto che si parla di turismo e c'è un grande risveglio, anche molte aspettative. Qualche tempo fa è stato rimesso a nuovo l'hotel Cadore, è una grossa soddisfazione, purtroppo poi la gestione è venuta a mancare di lì a poco. Che prospettive ha questo stabile che è centrale, strategico e permetterebbe a voi di sviluppare anche molte idee turistiche, perché avete tutte le montagne sopra che sono interessanti, compresi i forti. Assolutamente sì, purtroppo la società che lo gestiva ha avuto qualche problema e l'ha chiuso. Io ho incontrato una quindicina di giorni fa degli imprenditori che erano intenzionati a riaprire l'hotel. So che hanno parlato con i proprietari e spero quanto prima di avere buone notizie. Anche perché materiale per poter pensare bene ce n'è? Assolutamente sì, come si diceva è centrale, è sopra gli impianti sportivi che abbiamo rivalutato, è vicino alla pista ciclabile, insomma c'è tanta carne al fuoco. Allora io sono un frequentatore di sentieri, ogni tanto mi prendo il piacere di andare a fare anche cose un po' impegnative, però mi rendo conto che forse sarebbe meglio rendere più edotte molte altre persone sulle possibilità che ci sono. Avete qualche idea riguardo ai molti percorsi che si possono fare anche a mezza costa? Sì, ci piacerebbe innanzitutto recuperare anche i vecchi sentieri che magari con una mancata manutenzione ordinaria abbiamo perso e poi tracciarli, nel senso che tramite una app, tracciarli digitalmente e anche proprio concretamente, quindi con i cartelli magari tipo quelli del CAI che si vedono. Su questo la nostra idea è quella però di sfruttare anche le menti pensanti dei giovani bellunesi, ci sono assolutamente dei bellunesi molto bravi, mi pare che Mattia Ferrigutti abbia da poco ricevuto un premio a livello internazionale proprio sullo sviluppo delle app, quindi ci piacerebbe fare un prodotto in casa, poi fruibile dai turisti, dimostrando che la provincia di Belluno è fatta di sì persone con gli scarponi ma anche menti molto fini. Parliamo adesso di qualche iniziativa a favore della popolazione, mi pare che abbiate in animo di attivare un bonus al trasporto, ma non c'è già quello della provincia? Sì, la provincia però non copre tutto, ma soprattutto non copre i costi del trasporto scolastico dei genitori che mandano i figli fortunatamente a studiare all'università, quindi magari il treno e qualche altro mezzo di trasporto, quindi su questo ci piacerebbe aiutare le persone residenti. L'altro aiuto è quello che vorremmo dare agli anziani, purtroppo Dolomiti Bus ha delle difficoltà a coprire in modo molto frequente le nostre zone, penso a chi ha il medico di base a Cibiana e magari vive a Venasso o a Valle e non ha una rete familiare che lo possa supportare, magari aiutare con dei soldi queste persone e convenzionarsi con un soggetto, con un nolleggio con conducente che faccia quindi dei prezzi calmierati, permette alle persone anziane, ma non solo di recarsi in tempi assolutamente comprensibili e non abnormi dal medico, da noi capita che magari per andare a Cibiana dal medico si prenda la corriera alle 8 del mattino e la corriera rientro sia alle 3 del pomeriggio, per una persona magari anziana, ma non solo, anche per me sarebbe un problema, su questo credo che noi sindaci abbiamo il dovere di intervenire. Allora, in Comune avete due persone molto attive per quanto riguarda la comunicazione e l'arte che sono Antonio Palattini e Andrea Chicca che si prodigano per svariate iniziative tutte molto interessanti, una si intitola Musica da vedere, l'altra il Cineforum, hanno successo? Sì, allora, sono iniziate tre anni fa se non ricordo male, Andrea e Palattini non me ne vorranno, inizialmente avevano come tutte le cose poca affluenza, ora anche se col Covid è un po' più difficile, hanno il suo bel successo. È un modo, secondo me, uno di utilizzare le sale comunali, due di fare una certa socialità, la gente torna a muoversi anche alla sera e tre di fare cultura, perché insomma quello che propongono sono sempre degli eventi di spessore. Ci tengo però a ringraziare Andrea perché sarebbe stato il candidato sindaco di un'eventuale civetta a valle della quale non c'è stato bisogno, che però continua a collaborare con noi e con me personalmente in modo dall'esterno, però il suo contributo è assolutamente prezioso. Visto che è molto veloce nella risposta, posso farle anche quest'ultima domanda. Voi avete una struttura importante che è il cinema Antelao, che è di proprietà della parrocchia. È un peccato che non sia utilizzato più di quanto non possa essere utilizzato, soprattutto con la galleria perché verrebbe tolto anche dall'impaccio e dall'impiccio di avere sempre molto traffico. Sì, stiamo parlando con i proprietari, con la curia e la parrocchia relativamente a un possibile restyling. Diventerebbe un po' il fulcro del paese, nulla vieta che oltre al teatro si possa ricavare un bar che in quella zona del paese manca e sviluppare un'area pedonale perché lì alla fine si potrebbe pensare al transito delle auto solo dei residenti, quindi ci piacerebbe fare un bel restyling. Certo in questi cinque anni ci toccherà lavorare a testa bassa perché cinque anni sono tanti ma anche pochi. Un po' più sopra c'è la borgata di Costa che è una borgata antica, storica e molto importante che ne guadagnerà sicuramente. Il sogno è quello di farlo diventare uno dei borghi più belli d'Italia e credo che a questo si possa assolutamente ambire. L'ultima domanda davvero è quella che riguarda la raccolta dei rifiuti, voi avevate fatto partire questa idea dei cassonetti per i turisti, ha funzionato? Sì, ha funzionato e ci ha dato anche dei dati interessanti sulle classi merceologiche, a che ora vanno a conferire e quant'altro. Che ormai ne parliamo la prossima volta, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Marianna Offer, rieletta sindaca del comune di Valle di Cadore, faccio i migliori auguri di buon quinquennio. Grazie a voi per averci seguito, buona serata. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.